Grado di pericolo? No, il grado di pericolo è l'inizio All'inizio, cioè un pochettino Basta di seguire le orme Bambini, tutti in fila, eh Niente rutti, niente scolentia E Gina è una grande puttana Vai Fabio, facci strada Piano, cazzo fai Cazzo, Enza Vichia Sei su YouTube praticamente Salve, è colpa sua, come sempre Enzo, vattene avanti che non voglio stare con te Ragazzi, rispettate le distanze di sicurezza Allora, Steve Quando siamo sotto, puoi fare le belle riprese Sto già riprendendo Perché è più bello che si vede di stare a fare Ragazzi, è sconda Vichio, ti raccomando Gesso, non parla Ragazzi, guardate come si spara la gamba Ragazzi, qua Ragazzi, guardate come si spara la gamba Ragazzi, guardate come si spara la gamba Dove? Là sotto Lo prendono i ragazzi Danilo, vai Infine, l'attento davanti Aspetta, sto riprendendo Eh Quale è? Il segno dell'avanti Eh, vai Grande I fratellini, vai Eh, pugnetta Ma io non sono stato Che bello Come è, Steve? Guarda che spettacolo Bellissimo Eh Solo che a meno Mettitela dentro A meno mi riprende nessuno No, ma adesso te la metti dentro Perché dobbiamo Almeno ti godi un pochettino No, ma Aspettate 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 Che si riprenda Che si riprende Che si riprende Allora questo qua è impegnativo Perché Questo qua sembra tipo di essere Il canale Vai Action, action Ma mandate avanti Aspetta Virg, virg Ragazzi state attenti Perché E vai avanti Perché se no Sì, ci sono Che's on Ah, yeah Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Salmato! Salmato!